topspin è l'integratore studiato per le esigenze del tennista oggi con una nuova formulazione con proteine sali minerali creatina e glucosamina e adesso dalla ricerca global pharma anche topspin crema con principi attivi naturali per rimanere sempre attivo anche salvatore caruso ha scelto topspin topspin bustina e crema sono disponibili in farmacia club negozi specializzati e online vai sul sito topspin energy.com